Preghiera Maria, Madre delle vocazioni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, tu sai quanto il mondo aveva bisogno di sacerdoti di anime consacrate. Nel tuo santuario di Bocca di Rio hai inviato lunghi secoli anime generose ad accogliere il dono della vocazione. Continua ancora oggi, O Maria, a suscitare nel cuore ardente dei giovani un amore grande per Gesù e per le anime e li spinga a consacrare la loro vita per l'estensione del suo regno. Accompagna e sostieni questi tuoi figli nel loro cammino perché restino fedeli al dono ricevuto e siano totalmente dediti al servizio della Chiesa e dei fratelli. Accoglio, Madre, questa nostra supplica e fa che anche noi, con la preghiera, il sacrificio e la testimonianza della vita, abbiamo a collaborare all'inestimabile grazia della Divina Chiamata. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Peata Vergine delle Grazie di Bocca di Rio, Madre delle Vocazioni, prega per noi e per il mondo intero. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.